Ieri alla Camera sul decreto sicurezza c'è stato qualcosa che non è andato, il voto segreto ha rotto un po' i patti, gli accordi. Sì, è una domanda che non dovrebbe fare a me però perché io sono il sindaco di Napoli, la maggioranza vive sicuramente momenti di turbolenza, tra l'altro questioni molto importanti, su cui evidentemente quel contratto non è così blindato, sembra un po' come i contratti che si fa tra locatore e locatario, bisogna vedere chi è locatore e chi è locatario.